Come si rappresenta i simboli del calcit? Sicura e amore nei momenti più difficili della vita. Questa è la medaglia realizzata dagli studenti dell'ISIS Margaritone per il calcit. Si chiama il calore di una famiglia e sarà regalata a tutti i bambini che prenderanno parte al consueto mercatino del calcit in programma per il prossimo 14 maggio nella zona Eden. Fondamentale è insegnare ai ragazzi fin dalla scuola il valore del volontariato, di riuscire ad essere vicini a chi ha più bisogno. La nostra scuola, l'Istituto Orafo, è un istituto fortemente legato al territorio aretino, alla tradizione orafa, artistica e artigianale aretina. E proprio per questo la nostra scuola da 11 anni ha deciso di collaborare con una delle associazioni più rappresentative del settore del volontariato, dell'associazionismo e del mondo aretino. Ogni anno trasmettiamo dei significati importanti, i ragazzi sono talmente bravi e benevanti su questo che riescono a dare emozione alla presentazione della medaglia. Sono state realizzate 1500 medaglie dalla ditta Amon dei fratelli Veneri e chiaramente su disegno è messa in opera della stessa ditta, su disegno dell'Isis e Margaritone. Questa scuola che da 11 anni ci fa, oltre a disegnare, qui abbiamo l'insegnante di disegno e il professor Sisti, Guido Sisti, che è stata una scoperta del sottoscritto, non soltanto calcisticamente, ma anche particolarmente sotto l'aspetto professionale e umano. ha tenuto di conto, ha tenuto con tanta genialità, con tanto amore questo connubio Calcit-Isis-Margaritone.